Extra, extra, great news a Radio 90. Siete tutti invitati, sabato 28 novembre si svolgerà la finalissima del concorso canoro Your Note. La giuria che decreterà il vincitore sarà composta dai bravissimi cantanti Claudia B e Steve Biondi. Venite, venite numerosissimi presso il Teatro Cinema Famiglia in Corso Matteotti a 90 Vicentina a Vicenza. Vi aspettiamo tra il pubblico, vi divertirete perché sarà una finalissima alla grande. E allora potrebbe essere che magari l'anno prossimo ci sei anche tu a partecipare a questo grande annuale concorso Your Note Radio 90. Siete tutti i nostri, i nostri, i nostri, i nostri.